Il treno originale, proveniente da Bergamo, è diretto a Milano Porta Garibaldi nelle ore 7.35 e in arrivo a Pinali 5. Attenzione, da rinforzarsi dalla linea di Arrupa. Il treno originale, proveniente da Milano Porta Garibaldi nelle ore 7.35 e in arrivo a Pinali 5.35 e in arrivo a Pinali 5.35.